Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi sono appena svegliata, quindi scusate la faccia è ancora super addormentata Oggi video super speciale perché Gatto Denver, dove sei? Dove sei Gatto Denver? Gatto Denver? Ciao! Perché Gatto Denver oggi decide la mia giornata per 24 ore Non so che cosa ne uscirà di questo video, stiamo a vedere, intanto chiediamogli se devo fare colazione a casa oppure fuori Amore mio, vieni amore mio, ti ho preparato i bigliettini, guarda, devi scegliere, aspetta, aspetta, aspetta No Gattastellina anche tu vuoi giocare? Vuole giocare anche Gattastellina, di solito non partecipa mai Ma oggi forse, forse, ma non mi sembra tanto interessata, amore mio, infatti se ne va Sei pronto amore mio? Tu che ti presti, tu che ti presti sempre davanti alla videocamera Allora, qui abbiamo colazione, aspetta un attimo Gatto Denver, devi scegliere come si deve Abbiamo colazione fuori casa o colazione a casa, che cosa scegli? Scegli Gatto Denver questo e questo e se ne va Ok, prendo un po' di crocchette e vediamo se così riesco a fargli scegliere uno dei due bigliettini perché non gliene frega minimamente Amore mio, vieni amore mio, vieni amore mio Allora ti metto un croccantino su colazione fuori casa, vieni E un croccantino su colazione a casa, scegli Quale vuoi? Scegli amore mio, guarda uno o l'altro? Scegli Vieni a farti le coccole, vuoi le coccole? Vieni amore mio Guarda amore mio, guarda che ci sono due croccantini Quale vuoi? Ah, ok Sembra che abbia vinto, sì decisamente, l'altro lo togliamo perché Denver è a dieta, non dovrebbe mangiare troppo Quindi Gatto Denver ha deciso colazione a casa Io volevo andare a prendere un pasticcino e mi hai fregato? E io volevo uscire a prendere un pasticcino e invece no, invece hai deciso di no Ok Ok Sì Gatto Denver per colpa tua, guarda cosa mangerò Guarda Mangerò questo yogurt con muesli e fragole che si sono un po' congelate in frigo Non so come mai ma a volte mi capita questa cosa Eccola la mia colazione Super misera, volevo troppo uscire per bere qualcosa di buono e di bello E invece niente, Denver ha deciso così Ok, adesso faremo scegliere a Gatto Denver l'outfit per la giornata, ok? Quindi gli darò due opzioni, adesso seleziono due outfit e gli do due opzioni tra cui scegliere qualcosa di caldo e comodo Caldo perché fuori fino a poco fa ragazzi nevicava e comodo perché quarantena Vi faccio vedere le due opzioni di outfit Allora, outfit numero uno abbiamo questa tuta nera che è appunto super comoda, super calda perché è imbottita e con crop top corto Poi ho abbinato le sneakers, queste sono sul letto perché sono nuovissime, ci tengo a specificare, sono super super nuove, pulitissime E queste sono le mie nuove sneakers di The Sneaker Wall appunto con il print di Dior E poi in abbinamento abbiamo questa borsetta che è la mia ultima, mio ultimo acquisto di Chanel Che è questa appunto classica di questo bellissimo color turchese E poi da quest'altra parte invece abbiamo jeans, sono mam jeans quindi sono parecchio comodi, neri Con questo top lilla diciamo come colore, secondo me è tipo un violetto lilla E poi andrei ad abbinare quest'altra Chanel classica che è di un colore molto simile al top E come scarpe ho queste che non metto sul letto perché non sono pulite ma sono le mie sneakers semplici di Gucci Adesso in qualche modo Gatto Denver deve decidere quale dei due outfit devo indossare Amore mio, amore mio, ciao patatino mio Adesso metto Gatto Denver sul letto e vediamo a quale dei due outfit si avvicina Magari li distanziamo un po' di più così non ci sono dubbi, ok? Gatto Denver? Gli sembrerà stranissimo che lo faccia andare sul letto perché di solito non gli è permesso Vieni amore mio, con una mano non riesco a tirarti su Ecco qua, quale dei due outfit c'è gli Gatto Denver? Ma che mi stai facendo? Dove vai amore mio? No, non metterti al centro No, non puoi metterti al centro a dormire, dai Gatto Denver uno devi decidere Stanno usando le scarpe però, forse è più interessato alle scarpe Ho preso due croccantini perché altrimenti qua Gatto Denver non si decide Ho due croccantini per te, uno lo mettiamo qua e uno guarda Gatto Denver, guarda l'altro Lo mettiamo qua, scegli Ok, Gatto Denver ha fatto la sua scelta ed ha scelto la tuta con le nuove sneakers E l'ultima Chanel, bravo amore mio, grazie, grazie amore mio Mi sono vestita con l'outfit che ha scelto Gatto Denver, poi vi faccio vedere Nel frattempo mi sono anche truccata, ho fatto tutto base, mascara, sopracciglia Ma come potete vedere manca il rossetto, visto che sono indecisa tra due rossetti diversi che sono questi Uno è il rossetto liquido Vice di Urban Decay E l'altro invece è questo rossetto liquido, sempre liquido e opaco di Banana Beauty Questo si chiama No Cheera, uno è appunto questo è più sul nude, mentre questo è un bel rosa quasi viola sulla mia carnagione che è molto chiara Quindi abbiamo questi due, vediamo se Gatto Denver può scegliere per noi Dove sei Gatto Denver? C'è Gatto Stelnina che dorme Gatto Denver? Stai dormendo? No, no, non sto dormendo Ciao amore mio Vuoi scegliere tu? Vuoi scegliere tu tra questi due rossetti? Com'è che ti faccio scegliere? Allora mettiamo un rossetto qua Facciamo così, un rossetto qua e un rossetto qua Prendiamo sempre le famose due crocchette Che ci stanno aiutando tanto in questo video Mettiamo, guarda amore mio Sei completamente rimbecillito, non le vedi nemmeno Oh amore mio Allora mettiamo una qua, Gatto Denver sono qua, oh mio dio E una qua, sì però non è facile Cioè, allora Mettiamo le cose come devono stare Allora, ok, così stai al centro e puoi scegliere Amore mio, guarda ti ho messo una crocchetta per il rossetto Urban Decay E una crocchetta per il rossetto Barona Beauty Scegli amore mio Non le ha neanche viste Amore mio Sì, puzzo di crocchetta perché sono là Toh Denver, guarda Scegli una o l'altra Ah, ok Gatto Denver ha scelto ragazzi Tieni, tieni Non vuole mangiare dal tavolo perché logicamente non lo fa mai E Gatto Denver ha quindi scelto il rossetto Urban Decay Eccolo qui, rossetto Vice Questo non vi ho detto il colore Si chiama Backtalk È il mio preferito tra tutti i Vice di Urban Decay Ne applichiamo questo Lo adoro Questo colore è davvero unico È un rosa ma non è troppo chiaro Bellissimo E amo anche lo stesso prodotto ma in stick Adesso esco perché ci sono diverse cosine che devo fare Starò per un po' fuori casa Ma penso che sia ottimo In questo modo Denver può fare anche il suo riposino Perché lo sappiamo tutti che i gatti devono dormire tantissimo Quindi così lo lasciamo fare il suo riposino E sarà pronto per le prossime domande Per le prossime scelte di stasera Ok sono pronta per uscire con l'outfit che ha scelto rigorosamente Gatto Denver Quindi tuta corta appunto crop top E scarpe sono The sneakers wall con il print Dior Le adoro Sono troppo troppo belle La sciannellina è quella turchese E ho messo il teddy coat nero caldo Morbido e caldo perché fuori fa freddissimo E noi ci vediamo tra qualche ora quando rientro Ciao gatti Buonanotte Ora nel riposino buonanotte Sono tornata a casa E naturalmente c'è qualcuno che ha tantissime cose da dire E adesso scegli tu se bevo la cioccolata calda o il tè caldo? Sì? Grazie amore mio Prego Non potete immaginare ragazzi il freddo che fa fuori Sono uscita dopo poco ho iniziato a grandinare Dopo un po' è uscito il sole ho pensato wow E dopo un po' è iniziato a nevicare E a sprazzi nevicava con il sole E sto guardando fuori dalla finestra sta nevicando ancora Vi faccio vedere perché veramente ad aprire è praticamente incredibile Non so se riuscite a vederli i fiocchi che cadono Ma sta nevicando Mi sono vestita calda ma avevo comunque freddissimo con il vento eccetera Non avevo l'ora di tornare a casa e bere qualcosa di caldo Però faremo decidere a Denver se devo bere il chobar oppure un tè caldo Vediamo Ti piace essere tanto protagonista del video oggi? E mi fa piacere Ho messo qui il tè piquic ai frutti di bosco Sì gatto Denver adesso scegli adesso scegli E poi qui cosa abbiamo gatto Denver? Qui abbiamo il chobar che è quello classico che ovviamente faccio arrivare dall'Italia Perché non posso vivere senza il chobar è strabuono Quindi gatto Denver Sei pronto? Ok Allora Prendiamo i soliti croccantini Sì E ne mettiamo Aspetta gatto Denver Ne mettiamo uno Aspetta gatto Denver Dio amore mio Ok non appena cerco di preparare si lancia si fionda contro di me Allora Cerco di essere veloce ma mi insegue Aspetta gatto Denver Un attimo Ok sono riuscita a posizionarli più o meno Gatto Denver non seguirmi Una crocchetta qua e una crocchetta qua Quale scegli? Il tè Ok Grazie amore mio Grazie amore mio E tè Che l'ho messo a dieta Mi vuole mettere a dieta Anche lui Effettivamente se ci penso tra la colazione e il tè potrebbe anche essere Sto pensando di guardare una serie tv Oh mio dio ragazzi sta nevicando tantissimo Cioè io non ci posso credere Ok non fa parte di questo video ma devo farvi vedere la neve ad aprile Ed è tantissima Cioè ho il balcone che sta diventando bianco ragazzi Cioè io non so se mi spiego ma Wow Comunque volevo guardare una serie tv mentre bevo il mio tè caldo E ho visto che è uscita questa The Serpent Che potrebbe essere interessante per me Oppure super interessante Haunted versione America Latina Sapete che io sono fissata con il paranormale, fantasmi eccetera Quindi questa potrebbe essere non interessante ma di più Oh mio dio devo assolutamente guardarla Quindi speriamo che Gatto Denver scelga questa In realtà si è nascosto sotto il divano Sono sicura che se prendo uno dei suoi snack Arriva volando Già solo e infatti già solo se apro questa dispensa tu corri Per la pappa corri eh Ho preso questo snack a base di erba gatta Per cui vanno pazzi Ne ho dato uno anche a Gatto Stellina naturalmente E adesso facciamo scegliere a Gatto Denver Vieni Gatto Denver vieni amore mio Vieni amore mio Com'è che ti faccio scegliere non lo so neanche io Allora mettiamo qua The Serpent E qua Haunted Ok Ha scelto Haunted Sì 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 bravo amore mio Grazie amore mio Grazie amore mio Adesso mi vedo una puntata che probabilmente diventeranno due tre quattro cinque Tutta la serie comunque E poi penso che faremo scegliere a Gatto Denver la cena Intanto ci penso ci vediamo tra poco far cena Ok ragazzi è passato un po' mi sono vista due episodi di questa serie che mi sta piacendo tantissimo Se siete fan del paranormale dovete vederla Mi sono messa anche la vestaglia a cappatoio di Versace perché fa freddo ragazzi Qui sembra più Natale che Pasqua e tra l'altro sto continuando a nevicare tantissimo Comunque visto che mi è venuta fame faccio una pausa ma voglio vedere ancora almeno un altro episodio Comunque faccio una pausa e ordiniamo la cena Come vi dicevo vorrei far scegliere a Gatto Denver se prendere il sushi oppure la seconda opzione faremo pizza Non so dove sia adesso fino a poco fa stava qua urlando Adesso di nuovo qua che grida Sì sì vuoi partecipare adesso partecipi Gatto Denver Ho preparato i due bigliettini Spero vivamente che scegla il sushi perché ho tanta tanta voglia di sushi Ed è da tantissimo che non lo prendo Vabbè tantissimo probabilmente saranno tipo due settimane Per me è tantissimo però Ok Gatto Denver Sei pronto? Pizza croccantino sushi croccantino Hai visto amore mio angioletto? No sono qua guarda Vieni vieni Gatto Denver ti prego scegli No non le vede oh amore mio Mio cucciolato non le vede il mio gattino rudo bianco Guarda qui ce n'è una e qui ce n'è una Quale scegli? Prima o poi si accorgerà No oh amore mio Oh mamma mia Gatto Denver Non riesco a farlo stare fermo un attimo Ok allora una qua amore mio E una qua quale scegli? Sushi! Evviva! Bravo amore mio! Bravo amore mio! Grazie! Quindi stasera Gatto Denver ha deciso Sushi! Con Gatto Denver che non mi dà pace un secondo Davvero? Dicevo ho finalmente ordinato il sushi E ho preso un crispy salmon Un roll con gambero in tempura Poi un roll maki al salmone avocado E poi i gamberi in tempura Stavo iniziando a vedere il quarto episodio ed è arrivato finalmente il sushi Ragazzi! Gatto Denver è ovviamente molto interessato al sushi E si prenderà un pezzetto di salmone sicuramente Visto che è stato così bravo nella scelta Questa è la mia cenetta ragazzi C'è il roll Il crispy roll fritto con salmone Salmone flambè Poi ho il roll con il gambero in tempura E il roll con il salmone e l'avocado E poi appunto ho preso anche i tre Una porzione di gamberi in tempura E visto che sei stato così bravo Gatto Denver nella scelta Tieni Tieni amore mio Super delicato Gatto Denver E ovviamente un pezzetto anche per gatta stellina Se lo vuole Sì Decisamente sì Dolcetto post cena Non so se mangiare gli M&M's al caramello Oppure gli Oreo di Lady Gaga Quindi facciamo scegliere A Gatto Denver Allora una crocchetta qua E una crocchetta qua Quale prendi? Questa Ok Quindi mangiamo gli M&M's al caramello Grazie Gatto Denver In realtà stavolta non avevo particolari preferenze E certo si mangia pure l'altra era ovvio E questo è quanto ragazzi per il video di oggi Mi mangio gli M&M's E mi guardo un altro episodio di Haunted Ringraziamo Gatto Denver Special guest Ecco se n'è andato ok La nostra special guest Si nasconde Grazie amore mio Grazie per aver partecipato al video amore mio Si è stato bravissimo Vabbè Adesso probabilmente si mette a fare la nanna Quindi ragazzi vi aspetto domani alle 17.30 su YouTube Vi do un bacio enorme Vi abbraccio fortissimissimissimissimo E a domani Ciao Ciao Grazie a tutti